Adesso parliamo un po' con Roberto Vavasori, il giovane che oggi è stato decisivo, il gol del 2-0, però alla fine i tre punti non sono arrivati. Sono felice per il gol, però è un'occasione persa, abbiamo perso un'occasione come domenica scorsa e sarà proprio la prossima volta. Cosa vi è mancato? Oggi l'ambiente è tutto un po' amareggiato per questa partita, giocata bene? Sì, abbiamo giocato abbastanza bene, però dovevamo soffrire un po' di più. Non siamo riusciti a tenere il risultato, anche con l'uomo in più. Qual è l'importanza di giocare insieme a gente come Leone, come Pinaroli? Di grande aiuto, alla fine ti aiutano loro anche, molti sbagliati, ti correggono e impari. Per te comunque una buona prestazione, un gol fa morale per anche la tua crescita personale? Sì, certo. Sono felice, però l'importante erano i tre punti, speriamo la prossima volta. Questo pareggio frena la vostra corsa in classifica o comunque c'è ancora tempo? No, beh, penso che c'è ancora tempo. Vedendo i risultati, anche oggi potevamo essere primi se vincevamo e siamo lì a due punti. Comunque ci credete in questo primo posto? Sì, sì, sicuramente.